Ministro, ma ci crede ancora nel lavoro dell'ONU? Ci sarà qualche risultato concreto o bisogna un po' riformarlo questo ONU? L'ONU bisogna riformarlo, forse deve essere più attiva durante l'inizio della guerra in Ucraina, però è uno strumento importante, bisogna credere nel multilateralismo. L'ONU svolge anche azioni preziose, penso per la sicurezza nucleare, penso con le operazioni di pace, noi siamo coinvolti con i nostri militari, con l'Unifel, proprio in un momento critico tra Libano e Israele, tra Esbolla e israeliani. Quindi il valore dell'ONU è fuori discussione, come dice bene, è una bella casa, mi piace la mia casa, però magari va fatta qualche operazione di manutenzione. L'ONU ha bisogno di operazioni di manutenzione che però non siano manutenzioni sballate, perché se una riforma che trasformi l'ONU in una realtà dove ci sono squadre di serie A e di serie B non va bene.